Netta sconfitta per l'Amen Bici Servizio a Lucca, nella terz'ultima giornata della prima fase del campionato di Serie B, gli Amaranto non riescono a sbloccarsi lontano dal Palace Portestra, dove la vittoria manca dalla prima giornata di andata a Genova. Partono con determinazione i padroni di casa di Coccio Olivieri, Trentin e Pierini puniscono una disattenta difesa retina portando il BCL a fine primo quarto avanti 22-11 e Peluchini poi a tenere in piedi la sba che utilizza nelle proprie rotazioni il 2006 Vagnuzzi che realizza anche un canestro in arresto e tiro. Lucca però non abbassa la guardia e due canestri prima dell'intervallo di Pierini fissano il 36-24 con le due squadre che vanno negli spogliatoi. A rientro in campo l'Amen Bici Servizi ha un minimo di reazione recuperando qualche lunghezza di svantaggio e tornando a meno 7. Purtroppo per la sba però è solo un fuoco di paglia, Lucca segna 6 triple consecutive che la spingono fino al più 22 con un break di 18-3 che affossa le ambizioni a retine. Alla terza sirena la squadra di Coccio Olivieri avanti 66-46. L'Amen Bici Servizi prova a recuperare ma Lucca è bravo a gestire bloccando ogni tentativo degli aretini di rientrare in partita. I padroni di casa si impongono alla fine 80-69 confermandosi nelle parti alte della classifica. Per l'Amen Bici Servizi invece il posizionamento finale dipenderà dai risultati delle ultime due partite. A partire da domenica 11 quando al Palace Portestra arriverà la Computer Gross Empoli lanciata verso i play-off.